Signori, buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai. Io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale. Nello scorso video abbiamo visto la struttura generale della struttura narrativa in tre atti. Con questo video e poi nei seguenti andremo a vedere atto per atto le caratteristiche. Prima di iniziare però una piccola comunicazione di servizio. Come ho già detto nello scorso video, ma lo ripeto per chi se lo fosse perso, tra un paio di settimane ci sarà il video speciale per il secondo complanno nel canale. Come abbiamo fatto per il primo, se ci fossero delle domande sul canale, su quello che faccio io qua su YouTube, mi piacerebbe che me le faceste adesso. Scrivetele sotto nei commenti in modo da avere qualche settimana di tempo per organizzarmi e non dover fare il video all'ultimo momento. Fine della comunicazione di servizio, torniamo a noi. Prima di cominciare col video vero e proprio voglio fare una premessa. Sia in questo che negli altri video a seguire che parleranno nella struttura in tre atti, sarò costretto a fare molti riferimenti a tecniche e a concetti di cui abbiamo già parlato, sia qui nelle fondamenta del dungeon, sia nell'arte del masteraggio, negli anni precedenti. Ovviamente non posso mettermi a ripetere tutto ogni volta, se no i video dovrebbero delle ore. Lo dico per chi è arrivato nuovo sul canale, prima di cominciare questa serie vi conviene recuperare gli altri video. Io cercherò di mettere sempre, linkandoli in alto, i riferimenti ai video precedenti, però alcuni passaggi saranno veloci, non posso linkare sempre tutto. Avvisate di questo, se non capite qualcosa, sapete come comportarvi. Non perdiamo altro tempo e cominciamo ad analizzare la struttura in tre atti. Questa atto è l'inizio della storia. In questo atto gli avventurieri e quindi anche i giocatori verranno introdotti sia alla storia e ai suoi elementi, sia al mondo di gioco e l'universo narrativo condiviso. Il primo atto è normalmente diviso in due parti principali, la premessa e la chiamata all'azione. Durante la premessa vengono presentati i principali elementi del mondo di gioco e quella che fondamentalmente è la situazione di partenza. Questa situazione verrà in qualche modo turbata dall'incidente iniziale, ovvero quell'evento che metterà in moto gli eventi del principale arco narrativo. A causa dell'incidente iniziale gli eroi dovranno intervenire per cercare di risolverlo, dando origine al primo plot point, da cui cominceranno a muoversi nel mondo di gioco con uno scopo dichiarato durante la chiamata all'azione. L'interagire col mondo degli eroi li porterà a confrontarsi con un evento di forte valore drammatico che segnerà la fine dell'atto. Spesso all'inizio della premessa viene inserito un qualche elemento che aumenti l'interesse dei giocatori, generalmente chiamato il gancio narrativo. Ma il gancio narrativo è un elemento estremamente complesso, quindi ne parleremo la settimana prossima in un video dedicato solo a quello. Adesso concentriamoci sul primo atto e gli elementi che lo caratterizzano. Durante la prima parte, la premessa, il master dovrà fornire ai giocatori tutte quelle informazioni che sono loro indispensabili per crearsi un'immagine mentale di quello che sarà il mondo di gioco. Ovviamente quali sono queste informazioni dipende molto dal tipo di gioco a cui state giocando e dal tipo di campagna che state mettendo in scena. All'inizio della premessa potrebbe essere presente un prologo, una scena o una serie di scene che non sono direttamente legate alla storia che state narrando, ma che servono ai giocatori a farsi un'idea dell'ambiente e fungere da gancio narrativo per aumentare il loro interesse nella storia. Se questo è proprio il primo arco narrativo un'intera campagna, il master dovrebbe perdere sicuramente qualche minuto per spiegare ai giocatori i principali elementi narrativi di cui parlerà la campagna. Probabilmente lo ha già fatto in sessione zero, però magari farli vedere in azione nel mondo vero e proprio. Se si è detto che in questa campagna ci sono delle navi magiche volanti, magari fare in modo che i personaggi arrivino in città a bordo di una nave magica volante o ne vedano una decollare mentre sono lì nella città. Non perdeteci comunque troppo tempo, ricordate, evitate lo spiegone, vi metto il link nel caso dobbiate recuperare il video. Se invece la storia si svolge in un ambiente che i giocatori già conoscono, il master dovrebbe sfruttare questa parte per sottolineare le differenze tra questo arco narrativo e quelli precedenti. Magari descrivere le differenze tra la nuova zona che i personaggi hanno raggiunto, rispetto alla zona da cui sono partiti. O magari introdurre brevemente quali saranno i nuovi nemici, quale sarà il tema degli antagonisti di questo arco narrativo. Ovviamente oltre a introdurre quali saranno gli antagonisti bisogna introdurre anche quali saranno gli alleati. In questo momento i personaggi dovrebbero incontrare i principali png loro alleati e cominciare a farsi un'idea di chi sono. Meglio ribadirlo, non si sta parlando di il master parla e racconta tutte queste cose al party. Tutte queste dovranno essere scene in cui i giocatori dovranno giocare e fare in modo di recuperare queste informazioni. Di nuovo, show don't tell, vi lascio il link anche di questo. Nel caso comunque trovate poi tutti i link in descrizione, se non sfogliate la playlist e trovate tutto. Importante ricordare che in questo momento il master deve lasciare comunque la massima libertà ai giocatori di esplorare l'ambientazione con i loro personaggi. Anche perché all'inizio della quest è probabilmente il momento migliore in cui i personaggi possano cercare di integrarsi con l'ambiente di gioco. Magari un giocatore vuole che il suo png abbia un qualche tipo di relazione con un png, che può essere una relazione sentimentale o una relazione d'affari, poco cambia. Magari il party vuole comprare una casa nella nuova città che hanno raggiunto perché quella diventa la nuova base. O vogliono girare per la città per vedere dove sono i negozi che potrebbero portargli utili in seguito. È una parte molto delicata e il master deve fare in modo che i personaggi si sentano liberi di fare quello che vogliono. Qualcuno dei giocatori magari potrebbe chiedere delle descrizioni più approfondite o fare domande su qualcosa che sta venendo descritto in gioco. Oppure i giocatori potrebbero semplicemente dire o comunque far capire che c'è qualcosa della nuova ambientazione che apprezzano particolarmente o che non apprezzano affatto. C'è qualcosa che vorrebbero che venisse trattato o c'è qualcosa cui non interessa assolutamente che venga trattato. Il master deve essere pronto a ascoltare tutto quello che il suo party è da dire e a integrare tutte queste cose nell'arco narrativo. Quando sembra chiaro che i giocatori hanno assorbito tutte le informazioni che gli servivano per comprendere gli avvenimenti dell'arco narrativo e magari i loro personaggi hanno cominciato ad ambientarsi all'interno della zona del gioco, del nuovo ambiente condiviso, è il momento di complicare loro la vita. Questo è il momento migliore per essere un master. E adesso che la principessa viene rapita, la banca viene rapinata, il super cattivo attacca la città, gli alieni cercano di conquistare il pianeta. Questo momento viene definito l'incidente iniziale ed è il momento in cui il master ha il massimo della sua autorità narrativa, è il momento in cui il master influenza nella maniera più pesante la narrazione. L'incidente iniziale segna anche l'inizio dell'arco narrativo vero e proprio. Dovrebbe essere sempre un evento che abbia un forte impatto sia sulla storia che sui personaggi della storia. Dovrebbe fare in modo che i giocatori siano spronati all'azione e dovrebbe essere anche qualcosa che rispecchia i temi che sono stati previsti per questo arco narrativo. E dato che anche lui è legato al tema di cui si vuole discutere durante la narrazione, questo è il momento in cui viene presentato anche l'antagonista dell'arco narrativo. L'antagonista, il cattivo, è il PNG che ha più attenzione su di lui di tutto il cast dei PNG che ha il master. Quindi normalmente è meglio presentarlo separatamente in un momento di alta tensione narrativa. Vale sempre la pena perdere un po' più tempo nella presentazione dell'antagonista rispetto a quello che si fa con gli altri PNG. Questo però non vuol dire che l'antagonista debba per forza apparire per essere presentato. Sicuramente l'antagonista può essere inserito per azione diretta. È il drago che va a rapire la principessa, è il super cattivo che attacca la città, è l'ammiraglio alieno che vuole distruggere il pianeta con la sua flotta di astronavi. Quella è la sua presentazione diretta, cioè il cattivo, l'antagonista, è la causa scatenante dell'incidente iniziale. Però può essere anche introdotto per interposta persona, viene introdotto il suo stile, vengono introdotti i suoi ideali, ma non lui direttamente. I giocatori potrebbero imbattersi in un culto che venera un demone e il demone sarà l'antagonista della campagna. Potrebbero venire attaccati da un assassino e scoprire che quell'assassino è stato mandato dal malvagio barone. Potrebbe esserci una serie di esplosioni nella città e i personaggi dovranno capire che sono tutte legate alla stessa cellula ai terroristi. Il fatto che l'antagonista non venga presentato direttamente è uno stilema classico dei racconti gialli. Normalmente il PNG assassino, o comunque il criminale che è da trovare, non appare direttamente fino alla fine della storia, sono le sue azioni a descrivere le sue motivazioni. Fate attenzione anche al fatto che si sta parlando dell'antagonista dell'attuale arco narrativo, il che non vuol dire che sia l'antagonista dell'intera storia o dell'intera campagna. I personaggi adesso devono affrontare lui perché questa storia ha lui come antagonista. Magari c'è un cattivo più grosso che verrà presentato in un'altra storia successiva, andando avanti con i prossimi archi della campagna. Potete benissimo lasciare intuire che ci sia qualcuno alle spalle dell'attuale antagonista. Anzi, delle volte è proprio lo scopo dell'intero arco è far capire che c'è qualcuno alle spalle di quello in cui si stanno confrontando adesso. Assicuratevi però di presentare l'antagonista dell'attuale arco narrativo, non limitarvi a renderlo un clone di quello che poi sarà il boss finale della quest. L'incidente iniziale, come un sasso lanciato in acqua, si ripercuote sulla trama dell'arco narrativo e prima o poi queste onde andranno a influenzare anche i pg. In questo momento i personaggi dovranno cominciare ad agire attivamente e i loro giocatori dovranno decidere come vogliono affrontarsi alla trama, come vogliono intraprendere queste azioni. E' appunto per questo che viene chiamata questa parte la chiamata all'azione. Adesso che i personaggi sono pronti a diventare i veri e propri eroi del racconto ha origine il primo plot point, cioè il momento in cui l'arco narrativo devia in base alle scelte che i giocatori hanno fatto. Il primo plot point o punto di trama come volete chiamarlo può coincidere con l'incidente iniziale o essere due eventi separati nella linea narrativa. Ad esempio i personaggi potrebbero vedere il super cattivo che attacca la città, infilarsi i loro costumini attillati e andare alla riscossa per cercare di fermarlo. Oppure il super cattivo attacca la città come incidente iniziale, in seguito gli eroi vengono chiamati dal commissario della polizia che gli affida formalmente l'incarico di sconfiggere il super cattivo generando così il primo plot point. Tenete conto che il tempo e lo spazio della premessa non necessariamente coincidono con il tempo e lo spazio percepito dai giocatori durante la storia. L'incidente iniziale potrebbe essere avvenuto prima o essere avvenuto in un luogo molto distante o comunque i personaggi non sono a conoscenza del fatto che sia già avvenuto l'incidente iniziale. Ad esempio un gruppo di avventurieri fantasy dopo aver compiuto innumerevoli imprese sono diventati così famosi che il re del regno li chiama alla sua corte per affidare loro l'incarico di sconfiggere il re dei lich che mille anni fa è stato bandito in una terra al di là del mare e tutti sanno che prima o poi tornerà per vendicarsi. La premessa e l'incidente iniziale per il master probabilmente sono tra le parti più difficili da affrontare dell'intero arco narrativo. Questo è il momento in cui i personaggi devono essere lasciati liberi di esplorare la storia come meglio preferiscono. Soprattutto i giocatori devono essere lasciati liberi di affrontare la chiamata all'azione nel modo che loro ritengono migliore non quello che è più utile al master per la sua stonia. Al limite i giocatori potrebbero anche decidere di non apprezzare affatto la chiamata all'azione e deviare il primo plot point su dei binari che il master non si aspettava. Ad esempio potrebbero decidere che secondo loro il super cattivo è perfettamente legittimato ad attaccare la città anzi ha ragione e decidono di aiutarlo invece che sconfiggerlo. Il caso più grave è che la quest sia presentata in un modo tale che i giocatori decidono di rifiutare del tutto la chiamata all'azione e quindi non voler percorrere l'arco narrativo. Questo però è un argomento molto lungo quindi ne parleremo in un video successivo probabilmente più di un video successivo. Una volta che i giocatori si sono messi in moto e hanno sguinzagliato i loro personaggi in giro per la quest la storia può avere il suo inizio vero e proprio. I personaggi infronteranno le prime difficoltà fino ad arrivare al primo atto di forte valore drammatico. Potrebbero scoprire dove si trova la tana del drago o la base del loro cattivo. Potrebbero trovare un indizio importante che gli faccia intuire in che direzione andare per trovare l'assassino. Quale sia questo evento dipende da storia a storia. L'importante è che sia qualcosa di sufficientemente impattante nella storia da causare una vera e propria svolta nella narrazione e quindi segnare la fine del primo atto. Con la fine del primo atto i personaggi adesso sanno cosa devono fare, sanno qual è il loro scopo, sanno chi è il loro avversario e possono procedere a una storia strutturata su come andranno poi a sconfiggerlo alla fine della struttura in tre atti. Però con la fine del primo atto finisce anche questo video. Non dite che non vi avevo avvertito che quest'anno si comincia con le cose difficili e secche. Comunque per questo video è tutto, la prossima settimana nell'arte del masteraggio andremo a parlare del gancio narrativo, anche quello sarà un video molto pesante vi avverto. Nel frattempo mi piacerebbe sapere da voi cosa ne pensate del primo arco narrativo, se lo usate, se non lo utilizzate, se non lo utilizzate, perché non lo utilizzate. Se avete domande o perplessità, non fatevi problemi, scrivete qua sotto. Capisco che per chi non è avvezzo a queste cose tutte le informazioni insieme possono essere pesanti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se non volete perdervi i prossimi video, iscrivetevi e schiacciate sul tasto della campanella. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!